Prima la lite per motivi legati al mondo dello spaccio, poi la rissa ed infine un pugno in faccia ad un poliziotto. Insomma, una mattinata movimentata nel quartiere di Saione, che si è conclusa con una denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento per un 27enne, per il quale è scattato anche un provvedimento di espulsione. È successo attorno alle 7 di ieri, quando al numero unico d'emergenza 112 è arrivata la segnalazione di una violenta lite in via tagliamento, in cui erano coinvolte tre persone. Sul posto le volanti della polizia, che hanno individuato un uomo che stava trascinando a terra un altro soggetto dopo averlo afferrato per i pantaloni. Dopo non poca fatica per abbassare i toni della discussione, i poliziotti hanno compreso che la lite era nata da vicende personali, presumibilmente legate al mondo dello spaccio e consumo di droghe. Così gli agenti, assieme ad una pattuglia dei carabinieri, hanno fornito assistenza medica all'aggredito, invitandolo a sporgere denuncia. L'aggressore, un 27enne gambiano senza fissa dimora e privo di documenti, è stato invece accompagnato in questura. Ma mentre i poliziotti tentavano di farlo salire in auto, il giovane ha colpito un agente al volto ed è scappato verso Piazza Zucchi, dove è stato fermato ed immobilizzato dopo un breve inseguimento. Dei successivi accertamenti è risultato poi che si trattava di un soggetto ben conosciuto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali. Da tempo erano state anche avviate le procedure per il ritiro dello status di rifugiato per le sue ripetute condotte illecite. Dopo la denuncia sono stati notificati al 27enne un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto ed il decreto del questore per il trattenimento presso il centro per rimpatri di Torino in attesa del definitivo allontanamento dall'Italia verso il paese di origine.